E' stato ritrovato poche ore fa nelle campagne di Fano un corpo mummificato adagiato sull'erba e gli inquirenti indagano su identità e cause. Il governo studia nuovi metodi per il ritiro del lavoro nel 2024, al vaglio quota 84, la pensione anticipata al femminile con 20 anni di contributi. Approvata a maggioranza la proposta di atto amministrativo a iniziativa della Giunta per il piano regionale, per il diritto allo studio e per il triennio 2023-2026. L'Università di Macerata ha proposto a 80 liceali un laboratorio didattico sulla giustizia comparativa, un'esperienza formativa che ha coinvolto anche il giornalismo. Secondo una recente indagine, solo 3 italiani su 10 sono contenti del proprio lavoro? La prima richiesta è uno stipendio adeguato. Benvenuti a All News, seconda edizione. Ritrovamento horror in un campo isolato a Fano, nei pressi del fiume Metauro, è stato rinvenuto un corpo apparentemente mummificato a diverse centinaia di metri dalle abitazioni. La salma appartiene probabilmente a un uomo. Indagano gli inquirenti. Lino Balestra è stato sul posto poco fa. Siamo a lungo l'argine sud del fiume Metauro, a poca distanza dalla pineta di ponte Metauro a Fano. Praticamente siamo un chilometro e mezzo all'interno dalla statale. Qui, nella zona che vedete alle mie spalle, transennata da un nastro, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi un cadavere. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, parzialmente mummificato, dicono, è stato ritrovato da una persona che stava passeggiando qui sull'argine, forse in cerca di funghi, si dice. Sul posto, naturalmente, la polizia scientifica, gli inquirenti, il PM, il medico legale. Sono tanti gli interrogativi che dovranno essere dissipati. Quest'uomo pare che sia di colore, dai primi rilievi fatti, però non si conosce la sua identità, non si riesce a risalire all'età. E soprattutto bisognerà capire da quanto tempo si trova qui, chi è, ovviamente, e perché era in questo punto. Era adagiato sull'erba, ripetiamo, e si trovava, è stato ritrovato a poca distanza da qui. Sono tante quindi le domande. Giallo fitto, sicuramente nelle prossime ore, e in base anche all'autopsia, ci saranno alcune risposte. Il corpo è stato portato via e quindi adesso agli inquirenti e alla scientifica le risposte del caso. Il governo sta studiando nuove soluzioni per il ritiro dal mondo del lavoro delle donne. Il meccanismo prevederebbe l'uscita a 64 anni con 20 di contributi e la disoccupazione cala. Tutti i particolari nel servizio dell'Inno Balestra. È un cane che si morde la coda il contesto lavorativo pensionistico in rosa. Nelle marche l'occupazione dà segnali positivi, ma i contratti non sono performanti e a termine, con la conseguenza che anche l'orizzonte pensionistico si allontana, maggiormente poi per le giovani generazioni. Quota 84 e opzione donna versione 2024 hanno bisogno di tempo per essere valutate e su di loro sarà determinante l'assestamento di bilancio per valutarne la portata. Stiamo parlando chiaramente di un provvedimento che è stato approvato adesso al Consiglio dei Ministri e di cui dobbiamo capire bene l'estensione. Noi avevamo fatto una grande battaglia per quello che riguardava opzione donna che noi ritenevamo dovesse rimanere come era stata congeniata e non con le discriminanti previste nel 2023. Adesso sembra che ci sia una modifica di opzione donna che però in questo momento riguarda esclusivamente l'età per cui parliamo appunto di questa quota 84, cioè 58 anni di età mentre nella versione 2023 erano 60, però parliamo sempre di cargiver, di donne con invalidità superiore al 74%, donne licenziate o occupate in imprese in crisi. Molte delle donne che avevano utilizzato opzione donna e che andavano in pensione, rimettendosi anche perché sappiamo che opzione donna poi significa contributivo in senso stretto, quindi ne hanno un danno insomma alle donne in alcuni casi, nasceva proprio dalla necessità di doversi occupare o dei genitori anziani o di nipoti, insomma, quindi di dover comunque gestire ciò che è difficile gestire utilizzando il welfare statale. Il fronte occupazionale poi più che in rosa si tinge di grigio dato che l'occupazione al femminile paga ancora condizioni sfavorevoli. Per quello che riguarda l'occupazione, se è vero che l'occupazione segna un più e di questo chiaramente non possiamo che essere contenti, però quando andiamo a fare una verifica su che tipo di occupazione ancora vediamo che si tratta di occupazione precaria, a tempo determinato e che comunque le donne ancora sono penalizzate perché il loro tasso occupazionale non cresce e soprattutto non cresce in maniera esponenziale e non cresce soprattutto nelle marche. La squadra mobile della questura di Pesaro ha tratto in arresto un quarantenne italiano, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L'attività è iniziata nella mattina del 25 settembre quando una giovane donna supportata dai propri familiari si è presentata in questura per raccontare il dramma della sua difficile relazione affettiva. La vittima è stata collocata in una casa d'emergenza. Il PM della locale Procura della Repubblica ha formulato al GIP una richiesta di adozione di misura della custodia cautelare in carcere per il quarantenne che è stata accolta. L'uomo è stato rintracciato a Pescara lo scorso 30 settembre e arrestato. E cambiamo argomento. In attesa di scoprire se ci sarà il tanto discusso rimpasto in regione, l'Assemblea legislativa delle Marche ha approvato il piano triennale di diritto allo studio. L'obiettivo è risolvere l'emergenza abitativa per gli universitari. Luca Falcetta. Il Consiglio regionale è tornato a riunirsi di martedì come ormai consuetudine. Nei corridoi si è discusso delle possibili rimpasto paventato dalla Lega e dal suo segretario Giorgia Latini, ma nessun esponente del carroccio ha voluto parlare a tal proposito. Il governatore Acquaroli, impegnato a Torino alle Festival delle Regioni, spera tanto che il tempo sia dalla sua parte, evitando così il rimpasto ad appena un anno dall'ultimo, con l'elezione nel Parlamento degli ex assessori Carloni, Castelli e Latini. L'obiettivo è portare avanti la macchina amministrativa ed infatti questa mattina l'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza il piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2023-2026. Il provvedimento di programmazione è presente nel quadro normativo i risultati del triennio precedente che inseriscono le marche a metà classifica tra le altre regioni in Italia, gli obiettivi e le priorità degli interventi. Nella valutazione del diritto allo studio dei vari enti nazionali, le marche sono tra i migliori. È evidente che si può fare sempre di più e sempre meglio, però noi riusciamo a completare tutte le richieste, cioè tutti gli aventi diritto vengono esauditi. C'è una diversificazione dei servizi perché c'è il problema degli alloggi, che sono la parte più costosa, il problema della ristorazione, c'è il problema anche del sostegno a quelle che sono le spese scolastiche. Quindi complessivamente diamo una risposta, soprattutto dal punto di vista dell'edilizia, perché poi è l'aspetto più importante. Sono state messe a norma, recuperate alcune strutture importanti, per esempio la macerata, il collegio Bartolo Assassoferato. Ci sono tre cantieri che partono, molto importante ad Ancona, quello di via Montemarino. Ancona è in sete di alloggi, quindi è importante. C'è la riqualificazione di Camerino e dei collegi del Tridente e via di seguito, quindi mi sembra che è un buon piano. Per l'opposizione nelle piano mancano adeguate risorse, soprattutto per le borse di studio, mentre a livello abitativo le difficoltà riguardano un po' tutto il paese. Ma occorre fare di più per dare risposte certe ai tanti giovani che da tempo protestano contro le caro affitti e la poca disponibilità di alloggi. Le principali criticità, dal nostro punto di vista, sono legate alla mancanza di risorse economiche. È un piano che sicuramente ha degli obiettivi importanti, ma che poi non sono circostanziati, non sono sostenuti dalle adeguate risorse. Noi già sappiamo che per l'anualità 2023-2024 sono aumentate di molto le richieste per le borse di studio. A questo aumento di domande ovviamente deve corrispondere un aumento delle risorse. Attualmente l'aumento delle risorse non c'è e quindi il rischio, ma è un rischio veramente molto concreto, è che migliaia di studenti rimangono senza borse di studio. In un momento, ricordo molto particolare, perché sono ormai mesi che gli studenti manifestano per segnalare che l'aumento degli affitti nelle città universitarie è diventato insostenibile per le famiglie. Quindi a questo punto ritengo che la regione debba fare sicuramente di più. Sgombero coatto per gli accampati del Passetto. Ci dice tutto Claudio Comirato. Ennesimo blitz della Polizia Municipale alla spiaggia del Passetto ad Ancona, dove è stato rimosso un bivac allestito da un gruppo di pakistani. Lungo la scalinata che scende dal monumento ai caduti, così come sotto la palafitta che ospita un ristorante, sono stati rimossi dal personale di Ancona Ambiente intervenuto sul posto, materassi, coperte, avanzi di cibo e interi sacchi di abbigliamento. Un altro bivacco era presente nei pressi dell'Androne, antistante all'ascensore del Passetto, lato mare, dove qualcuno aveva addirittura avvolto con un capo di abbigliamento le telecamere di videosorveglianza, onde evitare di essere scoperto. Non è la prima volta che Ancona Ambiente e Polizia Municipale devono intervenire alla spiaggia del Passetto, anche in piena stagione estiva. Una situazione difficile che va avanti da oltre due anni, con decine di senza fissa dimora che hanno bivaccato in questa zona, non avendo un posto dove andare. disperati che nella stragrande maggioranza dei casi sono in regola con i documenti rilasciati dalla questura di Ancona, ma non hanno un posto dove passare la notte. Ma c'è anche chi ha preferito rinunciare ad un centro di prima accoglienza falconara, destinazione ritenuta troppo lontana rispetto al capoluogo di regione. Tutti al mare, anche ad ottobre. Tanta gente in spiaggia a San Benedetto del Tronto. L'estate sembra non finire più. Sentiamo Benedetto Marinangeli. 3 ottobre a San Benedetto del Tronto. Temperatura estiva, mare cristallino e tanta gente che ancora affolla la spiaggia. A San Benedetto sembra il mare, almeno sembra così. Sì, più o meno le giornate calde ci sono sempre state. Quest'anno è una stagione lunga. Sì, è vero. E' bello ottobre. E' vero. Comunque, insomma, se il comune si desse un po' più da fare per accogliere anche altri turisti, soprattutto fine settimana, così potremo anche godere e soprattutto i ristoranti, tutti, avere un po' più di turismo che potrebbe essere estremamente utile per la città, no? Ma qui non stiamo a San Benedetto, stiamo ad Hawaii. Voi che fate? Lo contrabandate come servizio per San Benedetto del Tronto? Vabbè, allora, come non detto. Bellissimo. Bello, bello, bello. A mio fratello ho mandato una foto del 2021 che ci ritraeva comunque in acqua. nello stesso mare, nello stesso posto. Nello stesso mese? La stessa data, 3 ottobre. Sì, noi abbiamo fatto i bagni, quindi... Meglio di così? Ah, non se può chiedere, certo. Ma se l'aspettavo un inizio d'ottobre così? Beh, di solito qui ottobre è sempre così, è sempre bello. Difficilmente lo troviamo che piove, che c'è mal tempo, è difficile. Raramente. Da sfruttare al massimo? Sì, certo, adesso siamo in pensione, si sfrutta al massimo. Veniamo sempre, fino alla fine proprio, nuotiamo, arriviamo alle scogliere e oltre, quindi qui è proprio una favola quest'anno. Al mare ad ottobre, perché? Ma intanto non siamo riusciti a venire prima. Bella sensazione però, bel mare, caldo. No, è bello, bello, molto bello, poca gente, si sta da Dio. È il nostro anniversario. E siamo per l'anniversario di matrimonio a San Benedetto? Domani, sì. Noi siamo all'interno di Reggio Emilia, per quindi che veniamo un po' in riviera. Sì, sono 54 anni che stiamo insieme, perciò che siamo sposati, è bellissimo venire qui dopo 54 anni. Non è la prima volta, quindi, che venite a San Benedetto? Siamo venuti altri due volte, però in ottobre mai. I vigili del fuoco del presidio di Arquate del Tronto sono intervenuti nel primo pomeriggio per un incendio di sterpaglie nel paese del Reatino, che dista pochissimi chilometri dopo il confine della provincia Picena. Le fiamme sono arrivate a ridosso dei moduli abitativi posizionati in zona e occupati dalla popolazione colpita dal terremoto del 2016 e hanno lambito un bosco sovrastante. Con l'ausilio di personale e mezzi giunti dalla centrale di Ascoli, gli operatori sono riusciti ad arginare l'incendio prima che potesse interessare case e alberi. Per la bonifica della zona interessata, di circa 8.000 metri quadrati, sono poi giunte sul posto squadre di pompieri del comando di Rieti, da posta e amatrice. E cambiamo ancora argomento. L'Università di Macerata ha coinvolto 80 liceali nella giustizia riparativa con un laboratorio didattico. Manolita Scocco 80 studenti del liceo scientifico Galilei di Macerata le prese con un caso di revenge porn a scuola per capire se e come sia possibile guarire la ferita causata alla vittima di un gesto tanto violento. È la simulazione che l'Università di Macerata all'interno del Festival of the Humanities ha proposto agli studenti con il laboratorio didattico Va in scena la giustizia riparativa. Gli studenti sono stati divisi in gruppi di lavoro per valutare gli approcci e le possibili soluzioni in una prospettiva riparativa per far sì che la vittima potesse superare il conflitto con il coinvolgimento anche del responsabile del danno. Il laboratorio è stato organizzato dalle professoresse di UniMC, Lina Caraceni e Paola Nicolini in collaborazione con altri docenti. Quello che vogliamo fare oggi è provare a far mettere i ragazzi nei panni dei vari protagonisti di un conflitto, di un disagio, di un problema che si crea all'interno della scuola e vedere se insieme, dai punti di vista diversi, si può trovare una soluzione. La giustizia riparativa fa un pochino questo. Non rispondere a un comportamento non dovuto con i soliti strumenti della punizione perché non sempre la punizione risolve il conflitto ma attraverso il dialogo, attraverso il confronto, attraverso la possibilità di mettersi nei panni dell'altro provare a vedere qual è la soluzione al conflitto che determina un benessere per tutti quanti. È stato celebrato questa mattina a Colle San Marco l'ottantesimo anniversario dei fatti avvenuti il 3 ottobre del 1943 quando una folta schiera di giovani ascolani che si erano ritrovati l'11 settembre al Pianoro furono attaccati da numerosi reparti delle SS dell'esercito tedesco. In loro memoria è stato costruito il sacrario dove sono state poste corone come anche al Cippo. Nel corso della cerimonia a cui hanno partecipato gli studenti delle scuole il presidente provinciale dell'AMPI Pietro Perini ha letto uno per uno i nomi di quei ragazzi che persero la vita. Sia la provincia che il comune di Ascoli sono stati insigniti della medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana. Da un recente sondaggio emerge che solo 3 italiani su 10 sono soddisfatti del proprio lavoro. In Italia solo 3 persone su 10 sono contente del proprio lavoro secondo l'indagine condotta dall'agenzia MAV. Da un lato cresce la domanda insoddisfatta di mano d'opera specializzata, dall'altro chi un lavoro lo ha deve fare i conti con una situazione spesso frustrante. Il campione analizzato è composto dal 46% di uomini e dal 50% di donne. 4 non ha definito il proprio genere. Se il primo requisito per il lavoro è uno stipendio adeguato, lo cerca il 76% degli intervistati, è importante anche l'ambiente per il 56%. Conta preservare l'equilibrio familiare, considerato un valore più importante della carriera per il 28% degli intervistati, insieme alla realizzazione personale 23%. Dolenti noti arrivano dalla voce benefit, piacciono soprattutto quelli in denaro. 54% ma il 38% non ne percepisce di nessun tipo, nemmeno i buoni pasto. Se oltre la metà del campione ha deciso di cambiare lavoro, il motivo è stato in primis lo sfruttamento, oppure la mancata valorizzazione e infine i rapporti non buoni con il proprio datore di lavoro. Io sono su quelle tre, mi ritengo fortunato. È importante fare il lavoro che piace perché non ti peserà un giorno, però è una fortuna e quello è così. Che lavoro svolge? È il lavoro per un'azienda che produce abiliamento e pelletteria. Io sono contento perché è stata una scelta di vita il mio lavoro. Poi diciamo che nel momento in cui si sceglie un lavoro è il momento in cui non ci sono altre cose da scegliere nel momento che si sceglie. Poi ripensarci dopo, certo se hai proprio sbagliato, sì, ma se è andata così così è andata abbastanza bene. Io penso che sia giusto non ripercorrere le strade che non sono state le nostre. Che lavoro fa lei? Io sono un commerciante. Io ero tecnico della regione Marche, della sismica, del terremoto. Molto contento, mi è dispiaciuto lasciare il lavoro. Io ho svolto un lavoro nella mia vita che mi è piaciuto tantissimo. Ho fatto anche altri lavori, ma io ho fatto il giardiniere per 22 anni, mi è piaciuto tantissimo. Si lamentano stipendio basso, rapporti tesi, niente benefit, gratificazioni. No, da per quello ogni tanto c'è qualche slancio. A Numana si è da poco tenuta la finale del campionato Marche Autostoriche. Claudio Comirato. Una giornata tipicamente estiva ha fatto da cornice alla finale del campionato Marche Autostoriche che si è tenuta a Numana e che ha visto arrivare nella riviera del Condoro tanti equipaggi. Tra le auto d'epoca non poteva mancare una Delta. Sempre, c'è sempre la Delta. Delta che ha fatto la storia dei rally, la storia dell'automobilismo in Italia. È una macchina che è rimasta nel cuore degli italiani e non solo. Farà anche la storia della regolarità, dai. Prove cronometrate che si sono tenute poi a Marcelli. A salire sul gradino più alto del podio, peraltro per il secondo anno consecutivo, Andrea Carnevali al volante di una lancia. Affermazione e podio anche per Giampaolo Paciaroni, mentre il terzo posto è andato a Pietro Caglini. Ad assistere alle prove cronometrate, le tante persone che attorno all'ora di pranzo si trovavano nel lungomare di Marcelli. Campionato Marche che è stato organizzato da tre club. La manovella del Fermano, la scuderia Marche di Macerata e il club auto-moto storiche di Ancona. Siamo andati al museo La Fenice di Numano, museo archeologico molto bello, sempre interessante. Ci sono gli affezionati soprattutto perché sono quattro prove durante l'anno e quindi partecipano a quelli che vogliono chiudere il campionato. Però ci sono anche altri equipaggi che vengono per passare la giornata in compagnia degli amici. Era il nostro ultimo servizio, ora ripercorriamo insieme le notizie principali del telegiornale. Arriva il sommario. È stato ritrovato poche ore fa nelle campagne di Fano un corpo mumificato, adagiato sull'erba. Gli inquirenti indagano su identità e cause. Il governo studia nuovi metodi per il ritiro del lavoro nel 2024. Al vaglio quota 84, la pensione anticipata al femminile, con 20 anni di contributi. Approvata a maggioranza la proposta di atto amministrativo a iniziativa della Giunta per il piano regionale, per il diritto allo studio e per il triennio 2023-2026. L'Università di Macerata ha proposto a 80 liceali un laboratorio didattico sulla giustizia comparativa, un'esperienza formativa che ha coinvolto anche il giornalismo. Secondo una recente indagine, solo 3 italiani su 10 sono contenti del proprio lavoro. La prima richiesta è uno stipendio adeguato. Seguiteci anche online, vi ricordo gli indirizzi da cliccare tvrs.it e utvrs.it dove potete trovare H24, le notizie principali sulle 5 province della regione Marche in tutti gli ambiti. Siamo anche sui social Facebook e Instagram e c'è anche un'app gratuita da scaricare, MyTVRS. Bene, è tutto per la seconda edizione di All News, grazie per averci seguita. Ora ci sono Sigla, Meteo e All Sport. Torneremo a informarvi domani alle 13.15. Da parte mia l'augurio di una buona serata. Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. Vediamo le previsioni per la giornata di mercoledì partendo da una panoramica europea con l'anticiclone in temporaneo lieve indebolimento che consentirà il passaggio di una modesta perturbazione sul centro Europa ma la cui coda lambirà anche le regioni settentrionali portando qualche effetto soprattutto al nord. Vediamo la mappa della nuvolosità che ci mostra appunto quanto detto con la perturbazione comunque decisamente indebolita che riuscirà a raggiungere la nostra penisola portando qualche occasionale piovasco. Lo vediamo infatti nella mappa successiva con il focus delle precipitazioni vediamo gli effetti essenzialmente sulle Alpi al nord-est poco o nulla invece sulla restante penisola con il più modesto calo delle temperature. Entriamo dunque nel dettaglio previsionale per l'Italia con una giornata maggiormente variabile al nord dove non escludiamo qualche piovasco come detto essenzialmente soprattutto su Alpi e Prealpi ma entro fine giornata anche sul Triveneto. Ancora soleggiato il più parzialmente nuvoloso al centro-sud con un lieve calo delle temperature essenzialmente al nord ma ancora superiore alle medie del periodo caldo invece pienamente estivo sulle regioni centro-meridionari. Con questo è tutto, dettagli scaricando anche l'app gratuita di Trebi Meteo.